altissimo artissimo salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi ci troviamo a respiarte siamo sempre nella val di fiemme e questo ragazzi è un parco fantastica un parco d'arte praticamente ci sono un sacco di installazioni sparse in un circuito ad anello che sono state installate nell'arco degli anni ed è una cosa spettacolare perché è il più alto al mondo cioè il parco d'arte più alto al mondo che siamo a 2200 metri quindi ragazzi ovviamente per volare qua a livello di zona aerea non c'è problema qua si vuole tranquillamente guardate le mappe di di fly e volo tranquillo libero senza limitazioni particolari tranne quelle diciamo base date da enac ho chiesto permesso l'ente del parco che mi ha detto che non c'era nessun problema per loro riprendere le installazioni con il drone quindi tutto a posto quindi ragazzi volo fantastico e in questa location fantastica userò il mavic mini drone sicuramente ideale per una location del genere perché non è particolarmente rumoroso e per riprendere queste installazioni che comunque sono diciamo delle strutture abbastanza piccole da riprendere il mavic mini secondo me drone ideale poi ovviamente magari qualche volo panoramico però diciamo il mavic mini qua tanta tanta roba sicuramente adesso ragazzi non perdiamo il tempo facciamo questo giro ad anello in questo respiarte altissimo 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 alt Grazie a tutti 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 Grazie a tutti